lena un dono guarda la sembra uscita da un film dell'orrore e un futuro già scritto noi abbiamo dei poteri tu sei una strega preferiamo il termine maga ma l'amore nessuna maga può amare un mortale può cambiare ogni cosa devi uscire dalla sua vita vuoi essere una normale umana che cosa credi che beautiful creatures la sedicesima luna giovedì in prima serata italia 2